Gigi Marra accogliamolo con un calorosissimo applauso lui è un cantautore e da 29 anni buonasera ben arrivato dal titolo ma tu cantautore sì e diciamo che il brano parla di una storia l'amore che è finita un po' male come ormai si sente dappertutto però quindi è anche una canzone molto orecchiabile e ballabile soprattutto perché nell'amore c'è sia il male che il bene dipende come ci si lascia quindi dipende un po' tutto quindi chiunque potrebbe essere quel ma tu non è autobiografica quindi io ho raccontato una storia che non è mia quindi chi si vuol sentire in questa storia buon ascolto quindi non lo so Grazie a tutti